Vaporire Oggi vi farò vedere le tecniche di cottura abbinate a questa casseruola. La prima tecnica che vi mostrerò sarà una cottura a vapore di pesce e verdure con un separatore. Nella vaporiera mettiamo dell'acqua fino al livello indicato. Cominciamo a portare l'alta ristorazione a casa. Possiamo profumare l'acqua. In questo caso il gambero, diamogli in questo senso un po' speziato, leggermente piccante, mettiamo del curry nell'acqua. Ovviamente quando si sviluppa tutto il vapore tutti gli aromi saliranno, creerà questo profumo molto intenso che il gambero assorbirà insieme alle zucchine. Mettiamo all'interno della vaporiera l'apposito contenitore. Adasiamo i gamberi. Tecnica di cottura senza grassi che cucinerà solo con l'ausilio del vapore. Mettendo poi due alimenti di natura differente, come in questo caso pesce e verdure, all'interno della confezione troverete questi appositi separatori. Andiamo a riposizionare. Dall'altra mettiamo le zucchine. Pronti? Accendiamo i motori. Copriamo con il suo coperchio, previsto di un termostato. E di una valvola che pian piano farà uscire il vapore. Dopo circa 3-4 minuti il vapore ha cotto perfettamente sia i gamberi che in questo caso le zucchine. spugniamo. Voglio farvi rivedere. La cosa divertente in questo caso è olio extravergine, qualche granello di sale. Officina cucina naturalmente, in questo caso la portiamo direttamente a tavola. Buon appetito! Buon appetito! Seis Technicas de Cossion, un unico simpile strumento. A Humado. Una cosa che avreste sempre voluto fare, ma che non avete mai avuto il coraggio di provare. Oggi prenderà fuoco la vostra casa. Ovviamente scherzo, però poco ci manca. Nella vaporiera prepareremo in questo caso rana pescatrice cotta al vapore sicuramente, con officina cucina naturalmente, ma affumicata al momento. Allora, vaporiera. Segatura. La mettiamo direttamente in una casseruola. Se avete delle erbe tritate che vi siete messe via, comunque molto secche, in modo che prendano fuoco facilmente. Sembra anche una canzone. Accendiamo. Al massimo. Ricordiamo che naturalmente funziona sia su induzione, che su vetro ceramica, che su fornelli a gas. La tecnica consiste nel far tostare la segatura alle erbe, in questo caso, quando cominceranno a tostare e cominceranno a produrre il fumo. Con un accendino o con una piccola fiamma ossidrica daremo fuoco, appoggeremo la rana pescatrice, copriremo, lasciamo affumicare per qualche minuto. E poi continueremo la cottura al vapore. Eccola! Sta fumando. È tostata. Accendino fiamma ossidrica. Prende fuoco facilmente. Se sei come cantante, è meglio che sto in cucina. Togliamo. Una cosa molto semplice da preparare. Appoggiamo la rana pescatrice sul nostro vassoio. Prende un piccolo profumo di limone. Appoggiamo. E copriamo. Guarda l'effetto adesso. Ovviamente il fuoco si spegne perché hai mancanza di ossigeno. E si sviluppa tutto questo fumo e sta affumicando naturalmente, con l'officina cucina naturalmente. A seconda di quanto volete intenso la fumicatura, la lasciate più o meno dai 5 ai 10 ai 15 minuti. Io ho utilizzato la rana pescatrice, ovviamente potete utilizzare il salmone se magari siete in periodo natalizio. Insomma, la creatività non ha limiti. Adesso che il prodotto è affumicato, ovviamente non è cotto, lo cuociamo con il vapore. Questo nel vapore è fumo. Aggiungiamo dell'acqua. Copriamo. E utilizziamo la funzione classica del vapore. Avrà sempre questo profumo di affumicato, molto delicato. Al limone e poi lo impiatteremo. Il pesce è affumicato. Adesso è cotto. E lo prontiamo a tavola. Apriamo sempre in modo delicato. Peccato che non riesco a farvi sentire i profumi. Io l'ho messo in uno spiedino. Maionese al prezzemolo. E appoggiamo gli spiedini. Officina cucina naturalmente. Tecnica della fumicatura. Straordinaria. Grazie a tutti. Seis Tecnicas de Cossione. Un unico simile strumento. Mediterranea. Naturalmente ci prepara la cucina mediterranea. In questo caso è un guazzetto con molte spezie, molte erbe, pomodorini, olive e triglia cucinata a vapore. Mettiamo sempre dell'acqua. Che servirà sia per produrre vapore che per creare il guazzetto. Pomodorini. Olive. Qualche frutto dal cappero. Cipolla tagliata molto sottile. In modo che nonostante in tempi brevi comunque riesca a cucinare. Maggiorana. Origano fresco. Diamo un po' di profumi alla nostra cucina. E' importante quando si effettuano questo tipo di cucine molto leggeri e molto delicate utilizzare spezie, aromi, erbe. Basilico fresco. E qualche fiorellino. Per dare anche un po' di colore. Poi. Olio extravergine. Goccio di salsa di soia. E pepe. Saliamo leggermente. Ok. Adesso cosa succede? Si crea questo guazzetto. Piano piano le verdure cominciano ad ammorbidirsi. E ovviamente si comincerà a creare del vapore. Utilizziamo quindi una doppia tecnica. Si è in preparazione al fondo di cottura. Mettiamo il vassoio. In questo caso della triglia di riscata. Cucina mediterranea assolutamente priva di grassi. Meglio di così. Copriamo. Mettiamo al massimo per far cominciare a produrre il vapore. E poi mettiamo al minimo. Lasciamo cucinare piano piano e nel giro di 4-5 minuti prepareremo il piatto. Eccola. Questa è la cucina che voglio. Naturalmente sei straordinaria. Triglia cotta. Il guazzetto mi ha detto che è pronto. In questo caso con l'ausilio degli assessori. Estraiamo il vassoio che abbiamo utilizzato per la cottura, in questo caso della triglia. Venite a vederla. Utilizziamo il fondo di cottura che ha fatto il vapore. E non solo una sorta di rivisitazione di guazzetto, acqua pazza. Il pesce è molto delicato, ha bisogno di dolcezza. Officina cucina naturalmente. Guazzetto di triglia alla mediterranea. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ho bisogno di molta attenzione da parte vostra adesso. Esiste la cottura a bassa temperatura dove si utilizza il sottovuoto ed alcune attrezzature particolari, poco riproducibili. Il meipra e officina cucina hanno inventato il basso vapore, creato con officina cucina naturalmente. Questa tecnica di cottura permette, in questo caso, ad un controfiletto di carne che ho bardato con la pancetta, di non cuocere rapidamente come si fa solitamente in pentole ad aderenti sui ferri o sul carbone o su delle griglie. Perché questa tecnica consiste nel far concentrare i succhi all'interno della carne, successivamente si renderanno omogenei e questo permetterà una cottura rosea evitando le classiche pozzanghere nel piatto che piacciono a pochi, anzi non piacciono a nessuno. La vaporiera va portata alla temperatura tra i 45 e i 60 gradi perché questa temperatura permette una cottura ma non cottura del prodotto. Quindi una cottura lenta a vapore che permetterà fino al cuore del prodotto e successivamente la rosoleremo. Prodotto più succulento, roseo, quindi cottura al sangue o ben cotta, insomma, riusciamo ad accontentare parecchi palati con una semplicità incredibile. Naturalmente l'ho prescaldata. Il controfiletto di carne o filetto anche sul pesce non cambia nulla. Facciamo delicatamente, ha bisogno sempre di essere coccolata. Chiudiamo. Voi immaginate, solitamente le carni al sangue, al cuore vanno dai 48 ai 52 gradi. Se noi manteniamo questa temperatura, non può stracuocere, ma dolcemente arriverà a cottura, ci metterà un po' più di tempo. In questo caso, ovviamente a fuoco minimo o media potenza dell'induzione, mezz'ora 35 minuti. Ovviamente naturalmente ci stanno circa 10-12 porzioni, quindi ci siamo. Pronti! La cottura a basso vapore ha fatto il soffetto. La temperatura all'incirca di 50 gradi è arrivata nel cuore della carne. Non offenderti naturalmente se ti tolgo, ma è sensibile. Asciughiamo, comunque se è grato il vapore è comunque leggermente bagnata. E nel frattempo, in una padella antiaderente, in questo caso in ceramica, arrostiamo la carne. Pochissimo olio, sapete che l'antiaderente ha bisogno di pochissimi grassi. Così siamo sulla stessa filosofia. Adasiamo e facciamo rosolare. Tenere come il burro, leggera come l'olio. La cottura a basso vapore. La cottura a basso vapore, leggera come il burro, leggera come il burro, leggera come il burro. Seis Tecnicas de Cossion. Un unico simpolo strumento. Oriental. La cucina orientale. Succulenta, speziata, saporita, delicata e allo stesso tempo molto leggera perché è cucinata a vapore. Specialmente se parliamo di ravioli. Portiamo questa tecnica di cottura con i nostri ripieni e i nostri impasti all'italiana. In questo caso ho preparato dei ravioli ripieni di patate e menta, pecorino. È una ricetta tipica sarda. E nell'impasto utilizzato dalla faria di riso. Essenziale per avere questo tipo di cottura a vapore. Poi tutte le ricette le troverete nel nostro ricettario. Naturalmente a 100 gradi con semplice acqua. Posizioniamo. Chiudiamo. E lasciamo cucinare per 4-5 minuti. Ravioli portati a cottura. Adesso andiamo con un classico abbinamento con soia. Soia Banzai 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 La lasagna, come mai l'avete vista? Naturalmente cucinerà una lasagna per noi al vapore. Prendiamo coppapasta, lo inseriamo nel vassoio e poi montiamo la classica lasagna con la pasta dell'uovo, la bechamel, il ragù di carne e intercaliamo come la classica lasagna. Il formaggio grattugiato, pasta fino ad arrivare all'altezza del cerchio. Ultimiamo la lasagna con ragù e del formaggio grattugiato che ci permetterà poi la gratinatura successiva in forno. Mettiamo il coperchio naturalmente, accendiamo, i motori sono accesi. Vapore per 20-25 minuti, estraiamo il coperchio e andiamo in forno. Sarà una lasagna straordinaria. Signore, ho gli occhi lucidi, sono emozionato nel farvi vedere questa cosa. Le lasagne cotte a vapore. Stai calma. Posso farvela vedere? Certo che posso farvela vedere. I resisti mi odieranno ma io arrivo. L'abbiamo messa in questo coppapasta in modo che risulti comunque anche molto più elegante poi nel servirla. Allora, la lasagna è cotta, adesso abbiamo bisogno della gratinatura finale nel forno. La cottura fatta in questo modo permette di avere una succulenza superiore rispetto al solito, perché di solito le prendiamo e le mettiamo nel forno. Il forno, avendo per forza questa capacità di cottura molto, diciamo che asciuga parecchio. A caso utilizzate la stagnola, è sempre un gran causa. Ma quanti minuti deve stare? Benissimo. Qua risolviamo il problema. Abbiamo tolto il coperchio e sapete cosa facciamo adesso? Mettiamo direttamente, naturalmente, faccio anche le rime oggi, direttamente nel forno. 220 gradi per 5 minuti per avere una gratinatura perfetta e una lasagna naturalmente. Ci vediamo dopo. Siamo pronti. Siete curiosi? La lasagna secondo naturalmente. La'. Cualità naturalmente. Grazie a tutti.